Allora oggi inizierò un nuovo ciclo di predicazioni, una serie di predicazioni che ho deciso di chiamare le vie dell'adorazione e quindi per le prossime n volte, non so quante, non saranno poche, parleremo dell'adorazione. Però prima di parlare dell'adorazione, di che cosa è l'adorazione, vorrei che ci facessimo delle domande. Io amo le domande, specialmente quelle non retoriche, perché le domande ci aiutano a riflettere. Non so se avete fatto caso, quando io predico spessissimo faccio delle domande a cui non do le risposte, perché così ognuno di noi può dare la propria risposta, perché in verità quello che voi imparate e ricevete è la rivelazione di Dio. Di tutto il messaggio quello che vi colpirà sarà quello che voi riceverete per rivelazione. E quindi tante volte una domanda a cui Dio risponde a voi personalmente è molto più importante magari di tutto il messaggio. Quindi è importante che ci facciamo delle domande per non dare nulla per scontato. Alcune domande potrebbero essere di questo tipo. Cosa è l'adorazione? Cosa è l'adorazione? Perché tanti danno ognuno la propria definizione di che cosa è l'adorazione, ma definire l'adorazione è un po' come definire l'amore. Che cosa è l'amore? L'amore è tante cose. Che cosa è l'adorazione? L'adorazione è tante cose. Quando bisogna adorare? Può sembrare una domanda scontata. C'è un momento preciso? Non c'è un momento preciso? Chi ha inventato l'adorazione? Chi ha inventato l'adorazione? Chi ha pensato l'adorazione? Chi l'ha creata? Perché esiste l'adorazione? Perché c'è l'adorazione? Si poteva fare anche senza adorazione. Giusto? Forse si poteva fare anche senza adorazione. Forse si poteva vivere senza adorazione. Forse si poteva avere relazione con Dio senza adorazione. Chi deve essere adorato e perché? È davvero così importante l'adorazione? È davvero così importante? C'è un modo preciso in cui bisogna adorare? C'è un luogo preciso? C'è qualcuno che ci può insegnare a farlo? Io mi sono fatto queste domande e ho iniziato a leggere la Bibbia da Genesi ad Apocalisse e oggi vedremo un'introduzione da Genesi ad Apocalisse della questione dell'adorazione. Io lo definirei così. La questione dell'adorazione è quanto di più serio possa esserci. Dal punto di vista di Dio e dal punto di vista biblico, l'adorazione è quanto di più importante possa esserci. E potrei dire che l'adorazione è il secondo tema più importante di tutta la creazione e di tutta la Bibbia. È il secondo tema ed è strettamente collegato al primo tema. E il primo tema, il più importante di tutta la Bibbia, è la rivelazione di Dio. Amen? Il primo e più importante tema è chi è Dio? Chi è Dio? Dio usa tutte le scritture, tutta la storia, tutta la creazione per rivelare se stesso. E dopo che abbiamo risposto o non risposto a questa domanda, chi è Dio, ce n'è una seconda. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. E allora a Lui va l'adorazione. Amen? Quindi noi, lungo tutta la narrazione biblica, questi due aspetti, la rivelazione e l'adorazione, si dischiudono davanti a noi e segnano i tempi di Dio nella storia. Questa è una cosa molto importante. La rivelazione di chi Dio è e l'ordine di adorazione che ne consegue è ciò che determina il dipanarsi della storia e l'avvento delle ere. Provo a rispiegarlo in italiano. Ogni volta che Dio dà una rivelazione di se stesso, ne consegue un diverso modo di adorare. Un diverso e più profondo, più completo modo di adorare. E ogni volta che succede questo, ogni volta che l'adorazione va in profondità, c'è una svolta nel tempo. Si entra in un tempo diverso, si entra in un tempo spirituale diverso, si entra in un tempo divino diverso, in un tempo kairos. Adesso spiegheremo meglio che cosa significa questo. Tutta la battaglia spirituale che noi affrontiamo è intorno a questi due temi. Chi è Dio davvero e chi è degno di essere adorato? Pensa a cosa dice la Bibbia. Pensa alla tua vita. Pensa alla Chiesa. Pensa alla storia. Intorno a queste due domande, nazioni si combattono, popoli si combattono, gli anni si susseguono. Intorno a queste due domande, chi è Dio e chi è degno di essere adorato? Queste due domande percorrono la storia e sono due domande che Dio stesso ha suscitato nell'uomo e nella storia per rivelare se stesso e per essere adorato. E lo vediamo subito dal primo capitolo, dal primo libro della Bibbia, Genesi 1, versetto 26 e 27. Dice Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio ha creato l'uomo e lo ha creato per manifestare se stesso. Amen? Li ha creati maschio e femmina affinché portassero nel mondo l'immagine di chi Dio è, affinché fossero uno specchio di ciò che Dio è. Ma prima di creare l'uomo, Dio aveva creato ogni cosa, i cieli, la terra, le stelle, la luce, tutto aveva creato. E il salmista dice questo, capitolo 19, versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole. La stessa creazione parla di chi Dio è, non con una voce udibile, ma con un suono che il nostro spirito può sentire. Il Romani ce lo dice anche, versetto 19. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio. Vedi cosa dice Romani? Se tu conosci Dio devi glorificarlo. Alla conoscenza di Dio segue l'adorazione. E se non segue l'adorazione c'è un giudizio, perché Romani dice l'ira di Dio si rivela dal cielo. Ma si sono dati avvani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Questo succede quando tu adori la persona sbagliata, che il tuo cuore diventa pieno di tenebre. Perché quindi Dio ha creato la terra e l'uomo per manifestare e rivelare se stesso? A volte noi diamo questa risposta. Perché Dio ha creato l'uomo? Perché Dio è amore e quindi aveva bisogno di un oggetto da amare. Questa risposta non è completamente corretta. Perché Dio è totalmente sufficiente a se stesso e aveva già un oggetto da amare. Se stesso. Nelle sue tre persone. Il punto non è se Dio avesse bisogno o no di creare l'uomo. Perché sicuramente la risposta è che Dio non aveva bisogno di creare l'uomo. Anzi, Dio ha creato l'uomo per compiacere se stesso e per rivelare se stesso. Dio ha deciso per amore di farsi conoscere. Ogni atto d'amore che Dio fa verso di noi è un atto d'amore che Dio fa verso se stesso. Perché lui dimostra chi lui è ed è fedele alla sua natura. Testimonia di se stesso e la sua parola è vera. Dio manifesta il suo amore. Quando Dio ama Dio è amore e quindi manifesta se stesso. Amen? Dio non ci ha creati per darci un piccolo pezzo di terra da coltivare. Libero dai debiti una moglie che ci togliesse la solitudine e un cane, un leone per farci compagnia. Questo è Eden. Potrebbe essere visto così Eden. No? Un piccolo pezzo di terra da coltivare. Cioè abbiamo il cane, abbiamo il leone, la seconda che ci fanno compagnia, abbiamo la moglie. Non è questo Eden. E per tanti di noi invece questo è il paradiso. Perché siamo pieni di tasse, pieni di debiti. Mi piacerebbe tanto stare in un posto senza debiti. Ho la mia terra, ho da mangiare tutti i giorni, ho mia moglie, sono tranquillo, ho il cagnolino, è tutto a posto. Ho il leone che non mi sbrana. E il punto è che per tante persone sulla terra il paradiso è solo questo. E si arrabbiano con Dio perché non hanno il loro Eden. E anche se se lo creano non è mai abbastanza. Ma ti voglio dire una cosa, non era abbastanza neanche per Adamo ed Eva. Perché la vita che era in loro, quello che c'era dentro di loro, cercava più fama, cercava più gloria, cercava più conoscenza. Quindi è ovvio che Eden, a prescindere da Dio, non sarà mai sufficiente per te. Amen? Eden ha senso solo se Dio lo riempirà a sua presenza. Amen? E' per questo che noi abbiamo bisogno di mettere Dio al centro dei nostri pensieri e della nostra teologia. E così sarà anche veramente il centro della nostra adorazione. Amen? Se noi cominciamo a credere con la nostra teologia, con il nostro insegnamento, che Dio è il centro e che ogni cosa è stata fatta in vista di Lui, come dice la scrittura, per Lui, allora la nostra adorazione cambierà. Amen? E passeremo da quello che è stato profetizzato, dal vedere Dio come remuneratore, a vedere il volto di Dio. Amen? I primi quattro capitoli di Genesi sono scioccanti. Nel primo e nel secondo Dio crea tutte le cose e l'uomo per produrre un'immagine, un testimone di se stesso. Nel terzo capitolo l'identità di Dio, chi Dio è, viene subito messo in discussione. Comincia subito la battaglia riguardo a chi Dio è. E nel quarto capitolo c'è subito una dimostrazione, una battaglia per la vera adorazione. E in quella battaglia ci scappa subito il morto. C'è subito una vittima. Ed è Abele. Sono passati solo quattro capitoli dall'inizio della Bibbia e subito è iniziata la guerra per vedere chi Dio è veramente e per chi deve essere adorato e come deve essere adorato. E questo è scioccante. La prima volta che si parla nella Bibbia di adorazione c'è un morto di mezzo. La prima volta che si parla di adorazione Dio giudica l'adorazione di due persone e ne ritiene una adatta e una non adatta. E questo deve mettere nella nostra vita una grande serietà. Perché se Dio ha scelto la prima volta che parla di adorazione, di parlare di un fatto così grave, è perché noi ci dobbiamo chiedere. La mia adorazione com'è? È come quella di Abele o è come quella di Caino? Perché entrambi hanno fatto un'offerta. Apparentemente funzionava tutto. Entrambi avevano dato di quello che avevano, del frutto del loro lavoro. Ma c'è qualcosa nella vita di Caino che non funzionava. La Bibbia non lo spiega chiaramente. Dice solo una cosa. Dice che per fede Abele offrì un sacrificio gradito a Dio migliore di quello di Caino. Per fede. Ora questa fede può inglobare tantissime cose. Sta di fatto che subito dopo Dio dice a Caino, attento perché il peccato sta vegliando alla tua porta. E subito Caino si macchia di omicidio e versa il sangue del fratello. Colui che aveva prodotto una falsa adorazione ha ucciso colui che aveva prodotto la vera adorazione. Quindi per chi non crede nella persecuzione dei cristiani o degli ultimi tempi. I veri, coloro che adorano in verità, sono perseguitati dal primo episodio all'ultimo. E lo vedremo in Apocalisse che è così, davvero. Quindi siamo al quarto capitolo di Genesi e già la battaglia è iniziata, già è stato sparso del sangue. In Genesi 8, 20 e 21, Noè costruisce un altare dopo che è finito il diluvio. Dio ha mostrato, ha rivelato chi è. Lui è un Dio giusto e non vuole violenza, non vuole malvagità. Quindi lui agisce con il suo giudizio, il suo giudizio viene e poi Noè, quando finisce tutto quanto, esce dall'arca, costruisce un altare in mola sopra degli animali puri e c'è scritto che un profumo suave salì al naso di Dio, alle narici di Dio. Quindi Noè adora per la salvezza ottenuta. Da Genesi 12 a Genesi 35, poi lo approfondiremo in un altro messaggio. Dio appare in vari modi a Abramo, Isacco e Giacobbe, rivelandosi come Yahweh Gireh, come il terrore di Isacco. Voi lo sapevate che un nome di Dio è il terrore di Isacco? Il terrore di Isacco, l'angelo dell'Eterno, l'uomo in cima alla scala di Giacobbe. Tutti e questi tre patriarchi costruiscono altari in questo processo nella terra promessa. Vagando, ricevono rivelazioni di Dio e costruiscono altari. Poi arriviamo alla cattività in Egitto. Dio si rivela a Israele come Yahweh, l'Io sono, e li chiama a servirlo come un regno sacerdotale sul monte da Lui scelto, ad essere cioè un popolo di veri adoratori. Esodo 3, dal versetto 11. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va perché io sarò con te, questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò a loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, direi così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè, direi così ai figli di Israele, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Più tardi in Esodo 6, versetto 2, leggiamo. Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore, io apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di eterno. Quindi Dio sceglie Mosè e sceglie Israele come un popolo sacerdotale separato dal resto della terra per essere veri adoratori e associa a questa chiamata, a questa rivelazione di adorazione, una rivelazione di se stesso, la rivelazione di io sono. Quindi introduce, crea Israele, crea Israele e rivela se stesso e crea un ordine di adorazione, che è l'ordine della tenda di Mosè. Questo ordine si evolverà poi nella tenda di Davide, nel Tempio di Salomone. Quindi vediamo che c'è stata una prima creazione, una prima rivelazione di Dio e poi c'è stato un genere di adorazione, cioè un'adorazione spontanea. Poi Dio ha chiamato i patriarchi e loro hanno iniziato a edificare altari, hanno iniziato ad edificare altari. Poi dagli altari si passa alla tenda di convegno e Dio dà delle prescrizioni precise. La tenda di convegno sarà sempre mantenuta fino a quando sarà costituito il Tempio. Nel frattempo, arriviamo a Davide, Davide introduce un nuovo ordine di adorazione perché lui ha una nuova rivelazione di Dio e Davide dice tu non gradisci il grasso dei montoni, tu gradisci un cuore rotto. Lui capisce l'adorazione del cuore ed introduce un nuovo modo di adorare il Signore, con musica, con canti. C'è scritto che i leviti erano costituiti davanti a Dio per adorare il Signore del continuo giorno e notte perché la sua benignità dura in eterno. La tenda di Davide era la risposta alla bontà di Dio, alla benignità di Dio. Davide dichiarerà con grande entusiasmo e profonda adorazione, dopo la profezia ricevuta del suo futuro regno, l'intento di Dio per Israele. Seconda Samuele 7, versetti 22-23 Tu sei davvero grande Signore Dio, nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te. Secondo tutto quello che abbiamo dito con i nostri vecchi e quale popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio si è venuto a redimire per formare il suo popolo, per farsi un nome. Dio ha scelto Israele per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto, dalle nazioni con i loro dei. Dio sceglie Israele per farsi un nome e per dimostrare che lui è l'unico vero Dio e scendere in guerra contro tutti i falsi dèi delle civiltà che circondavano Israele. Lui scende in guerra contro gli dèi dell'Egitto, scende in guerra contro i dèi degli Amorei, degli Itei, Vei, Gebusei e tutti gli altri. Infatti il problema di tutta la storia di Israele è che loro non distruggono gli altri luoghi che erano chiamati a distruggere. Quindi tutto il problema di Israele è sempre stato la vera adorazione e a chi davano l'adorazione. L'altro cambio che abbiamo nella storia è quando arriva Gesù. Con Gesù si ha ancora una svolta radicale, cambia ancora il tempo spirituale, Dio rivela ancora maggiormente se stesso, mostra il suo volto e per farlo introduce un nuovo sacerdozio, il sacerdozio di Melchisedec, un nuovo patto e un nuovo tempo. Con Cristo veramente ogni cosa viene fatta nuova e Cristo insegna il paradigma dell'adorazione in spirito e verità. Amen? Amen. Nel tempio del suo corpo che è la Chiesa. Amen? Dio introduce l'adorazione, Gesù Cristo introduce l'adorazione in spirito e verità. lo spirito santo è colui che alla dipartita di Cristo guida la Chiesa in tutta la verità, annuncia le cose a venire e ricorda le parole di Gesù, essendo il direttore dell'adorazione, il direttore dell'intercessore, dell'intercessione, il direttore della rivelazione, in una libertà e contemplazione gloriosa continua fino alla venuta di Cristo. Amen? Amen. Lo spirito santo ci porta di rivelazione in rivelazione, lo spirito della verità che vi annuncerà tutte le cose, ci porta di libertà in libertà, dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è libertà, ci porta di gloria in gloria. Amen? Contemplando lo volto del Signore siamo trasformati di gloria in gloria. Quindi siamo nell'età dello spirito e lo spirito è il conduttore dell'adorazione. E arriviamo ad Apocalisse. In Apocalisse troviamo la battaglia finale per l'adorazione, con la grande rivelazione di Cristo. Amen? Abbiamo iniziato con una battaglia e finiamo con una battaglia. Però la rivelazione finale è la più grande rivelazione. Apocalisse, il nostro libro nella Bibbia si chiama Apocalisse e in inglese è Revelation, rivelazione, perché il primo versetto di Apocalisse cosa dice? Rivelazione di Gesù Cristo. Quindi la Apocalisse, Apocalupsis in greco, è la rivelazione di Gesù Cristo. Che cos'è il libro di Apocalisse? È il libro che racconta l'adorazione del cielo, la rivelazione di Gesù Cristo e a chi arriverà l'adorazione. Amen? E c'è una grande battaglia per questa adorazione. Il diavolo vuole rubare l'adorazione di Dio. Apocalisse 14, versetti dal 7 al 9, dal 7 all'11. Egli diceva con voce forte, temete Dio e dateli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate con lui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sull'affronto sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Riguardo all'adorazione è la battaglia degli ultimi tempi. Quanto è importante parlare dell'adorazione? È vitale. Quanto è importante l'adorazione nella tua vita? È vitale. Dalla tua vita di adorazione dipende se tu sarai con Dio o no. Amen? E Satana vuole la tua adorazione. Satana vuole rubare l'adorazione a Dio e rubando la tua adorazione a Dio con mille stratagemmi a volte stupidi o sembrano insignificanti altre volte eclatanti come quando arriverà l'anticristo. Ma Satana vuole sempre rubare l'adorazione di Dio e tu sarai testato su questo. Ed è importante come ti fai trovare. Provato, sì. Apocalisse 19, 11. Qua è la costanza dei santi. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue. Il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'irardente del Dio onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome. Redere e signore dei signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole e gli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo venite radunatevi per il gran banchetto di Dio per mangiare carne di re di capitani di prodi di cavalli e di cavalieri di uomini di ogni sorta liberi e schiavi piccoli e grandi e vidi la bestia i re della terra i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito ma la bestia fu presa e con lui fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più e vidi la santa città la nuova gerusalemme scendere dal cielo da presso dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo udì una gran voce dal trono che diceva ecco il tabernacolo di dio con gli uomini egli abiterà con loro essi saranno suo popolo e dio stesso sarà con loro e sarà il loro dio egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né dolore perché le cose di prima sono passate e colui che sede sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose poi mi disse scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere e aggiunse ogni cosa è compiuta io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita chi vince erediterà queste cose io gli sarò dio ed egli mi sarà figlio quando mosè va dal faraone dio gli dice di dirgli di al faraone israele è mio figlio lascialo andare affinché mi serva altrimenti io ucciderò tuo figlio quando dio introduce il paradigma dell'adorazione di israele dio fa una dichiarazione dice israele è mio figlio io combatterò per israele apocalisse dice chi vince sarà mio figlio io combatterò per mio figlio me dio combatte per te se tu scegli di adorarlo se tu scegli di dargli la priorità se tu scegli di guardare solo lui se tu metti il tuo sguardo su di lui i tuoi pensieri su di lui la tua teologia su di lui se tu lo metti al centro di tutto quello che fai tutto quello che sei se tu scegli di non adorare immagini se tu scegli di non adorare statue se tu scegli di non adorare preoccupazioni se tu scegli di non adorare i soldi se tu scegli di non adorare le donne se tu scegli di adorare dio lui ti premierà ti chiamerà figlio combatterà per te nella città non vidi alcun tempio perché il signore di ogni potente e l'agnello sono il suo tempio la città non ha bisogno di sole né di l'uno che l'ha il domenico perché la gloria di dio è il domenico e l'agnello è la sua monta le nazioni cammineranno la sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria concludendo come possiamo parlare di adorazione e non considerarne la dimensione profetica c'è chi non crede nell'adorazione profetica impossibile perché l'adorazione è la diretta conseguenza della rivelazione di dio l'adorazione scaturisce dalla rivelazione ed è una via per la rivelazione e quando dio si rivela e si manifesta l'adorazione scaturisce e i tempi della storia cambiano quindi la dimensione profetica della rivelazione dei tempi anche coinvolta ognuno di noi va da una rivelazione ad un'altra da un'adorazione ad un'altra da una gloria ad un'altra da una libertà ad un'altra fino alla completa adozione e alla perfetta adorazione e ora chiediti mentre preghiamo chi è dio per me? questa domanda fa tutta la differenza nella tua vita chi è dio per te? come hai conosciuto dio finora? come si è rivelato a te dio finora? perché tu puoi adorare dio solo per come dio si è rivelato a te la tua teologia cioè ciò che tu conosci di dio è il tetto della tua adorazione tu non puoi adorare dio per ciò che non conosci di dio e quindi sforzati di conoscere il signore sforzati di conoscere dice la bibbia cerca con tutto il tuo cuore chiedi al signore di rivelati a me perché quando tu ti rivelerai a me io entrerò in un nuovo tempo della mia vita amè? 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 Wow I Alla Is